Dopo la mancata ratifica dell'accordo di programma sull'ex COFA e il fulmine a ciel sereno della rinuncia ieri da parte della Camera di Commercio a proseguire ogni trattativa per la cessione delle aree dell'ex mercato ortofrutticolo a ridosso del Marina di Pescara, gli interrogativi sul futuro di quei capannoni dismessi sono tutti sul tavolo. Maggioranze d'opposizione si rimpallano le responsabilità della mancata ratifica. I primi accusano di irresponsabilità quanti dai banchi di opposizione hanno impedito la votazione di quella delibera, i secondi accusano di incapacità la maggioranza, rea di non aver ascoltato le osservazioni dell'opposizione. Nel frattempo da più parti vengono lanciate proposte sul come uscire dal vicolo cieco in cui ci si è cacciati, una cessione gratuita dalla regione al comune, una permuta o magari l'acquisto in toto dell'ex COFA da parte dell'amministrazione cittadina. L'assessore all'urbanistica Marcello Antonelli vorrebbe riprendere già dalla prossima settimana i contatti con la regione Abruzzo, proprietaria dell'ex COFA, per capire come portare avanti il progetto di riqualificazione, magari facendo pressione sull'ente camerale per un eventuale ma molto improbabile ripensamento. Quindi torniamo al PP2 e verifichiamo anche nei prossimi giorni con la regione se c'è ulteriore disponibilità a che quell'area venga mantenuta in capo, in proprietà a un soggetto pubblico. Noi facevamo il tifo per la soluzione Camera di Commercio perché ci sentivamo come cittadini e come amministratori maggiormente garantiti alla proprietà di un ente pubblico piuttosto che di un privato. Può acquistare il comune quelle aree? Noi 12 milioni di euro da tirar fuori non li abbiamo. Il comune è impossibilitato da acquistare quelle aree, se ci fosse stata questa possibilità l'avremmo, come dire, valutata positivamente già da tre anni. Sul versante dell'opposizione resta la disponibilità a trattare senza prescindere dalle osservazioni oggetto della battaglia in Consiglio Comunale. Il capogruppo del Partito Democratico, Moreno di Pietrantonio, propone che l'ex cofa venga ceduta al comune di Pescara. Siamo pronti a sederci per qualsiasi iniziativa di sviluppo di questa città a cui teniamo tantissimo. L'accordo di programma, volendo, si può rifare subito. Noi abbiamo preso atto da parte della Camera di Commercio che non è più interessata. Con ramarico ne prendiamo atto e quindi dobbiamo pensare a qualcos'altro. Quali sono le ipotesi? Abbiamo avuto quest'idea che la regione, che proprietaria, potrebbe darlo al comune rinunciando ai fondi FAS. Nel senso che invece di dare la quota dei fondi FAS per circa 12-13 milioni al comune di Pescara potrebbe dargli quell'area. A quel punto il comune di Pescara potrebbe fare una gara internazionale per la progettazione, ragionare seriamente sulla pianificazione e poi mettere a bando per la realizzazione.